Non può mancare la grande musica, il divertimento con Cecilia Gayle al carnevale lucese, sei pronta per animare la piazza? Ciao a tutti gli amici di Antena Mediterranea, sono davvero molto molto felice di essere tra voi, ho visto già il calore e la voglia di divertirsi che c'è, quindi è il posto giusto per me, con me si canta, si balla e sono davvero onorata di chi avete scelto me come artista. Ma tu lo sai che hai fatto ballare tutto il mondo? Ho fatto ballare anche lei? Eh certo! Sì davvero spero di poter, di continuare a farlo perché questo è il mio più profondo desiderio, io l'unica cosa che so è cantare e ballare, quindi... E cosa ti trasmette la piazza quando sei sul palco? A parte della mia vita, questa voglia di dare sorrisi, di regalare calore, di regalare divertimento, è questo veramente penso, è la mia missione. Ci sono tanti amici telespettatori che ci stanno guardando, mando un saluto vai! Un beso grande a tutti gli amici di... ricordami come si chiama la trasmissione? Antena del Mediterraneo! Antena Mediterraneo! Muaah! 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 Muaah!